In questo video vediamo la recensione delle 5 migliori lettiere autopulenti in vendita online. Prima di iniziare con il video ti ricordo che trovi tutti i link ad Amazon sotto al video in descrizione o nel primo commento. Iniziamo! Numero 5. Al quinto posto troviamo Catit Smart Shift. Lettiera dotata di un sistema semplice e pratico che rende la manutenzione della lettiera pulita, più semplicemente rispetto all'utilizzo della paletta. Munita di una leva per rinfrescare la sabbietta e raccogliere in modo automatico i rifiuti, depositandoli in un apposito cestino rivestito con foderina. Silenzioso, senza pezzi motorizzati o elettronici, evita la fuoriuscita di rifiuti e trattiene la polvere e inoltre è fornita di un filtro in carbone integrato che assorbe gli odori. La lettiera Catit Smart Shift può essere utilizzata con tutti i tipi di lettiera agglomerante. Ampio ingresso, è adatto a gatti di tutte le taglie, la porta abbattente può essere rimossa se necessario. Il prezzo è di 119 euro. Numero 4. Al quarto posto troviamo Pezza Fepal 1914656. La lettiera in cristallo blu assorbe l'urina e asciuga gli escrementi, garantendo una neutralizzazione incomparabile degli odori. La lettiera Scoop Free contiene un rastrello automatico che si attiva, in base alle tue preferenze, 5, 10, o 20 minuti dopo il passaggio del gatto. Il rastrello è dotato di sensori di sicurezza che rilevano la presenza del gatto nel serbatoio. Quando il cestino per i rifiuti impermeabile è pieno, è sufficiente rimuoverlo e sostituirlo con uno nuovo, riducendo al minimo la gestione della scatola e dei rifiuti. Il prezzo è di 144 euro. Prima di passare al prodotto numero 3 iscriviti a prezzo e recensioni per non perdere le migliori offerte del web in anteprima. Numero 3. Al terzo posto troviamo JYZT. Realizzato in pipì ecologico, sicuro, non tossico, insapore, e sicuro per il tuo animale domestico. Design della stanza completamente chiuso, porta di isolamento, progettata per offrire molto spazio e un rapido accesso per i gatti. La scatola di immagazzinaggio è progettata per posizionare la sabbia frantumata e versarla successivamente. La scatola del deodorante impedisce agli odori sgradevoli di fuoriuscire dal cestino, deve essere sostituito regolarmente. Il prezzo qui è di 174 euro. Numero 2. Al secondo posto troviamo EORTSPC. Sensore integrato e sensore di odore, imbuzione automatica 24 ore su 24, rilascio intelligente di molecole di odore pulito e deodorizzazione antibatterico. Per proteggere la privacy dei gatti, uno spazio chiuso appositamente progettato per i gatti. Utilizza la ricarica USB integrata, l'alimentazione della batteria a basso voltaggio, protegge gli animali domestici da danni elettrici. Facile cambiare la sabbia, utilizzando il design del cuscinetto del cassetto per cambiare facilmente sabbia e buttare escrementi, comodo e veloce. Bottiglia di liquido deodorante incorporata, comoda per caricare e scaricare, sostituzione del liquido deodorante, mantiene fresca la toilette per gatti. Viene utilizzato materiale IPS e il design della passerella a spirale interna viene utilizzato per proteggere la sicurezza del gatto, migliorando l'effetto del filtro a sabbia per evitare che la lettiera per gatti cada. Il prezzo è di 372 euro. Numero 1. Al primo posto troviamo PetKit Pura X. Sensore termico, sensore infrarosso, sensore di peso, sensori infrarossi, rilevamento intelligente, allarme remoto e sistema di prevenzione degli incidenti. Queste sono le qualità di questa lettiera autopulente. Intervallo di peso adatto per i gatti da 1,5 kg a 8 kg, non usare per animali giovani sotto i 6 mesi. Il filtro appositamente progettato si adatta sia alle lettiere vegetali che a quelle di bentonite e tutti gli altri tipi di lettiere per gatti. E tu quale comprerai? Faccelo sapere con un commento. Trovi il link al prodotto sotto al video in descrizione o nel primo commento. Lo staff di prezzo e recensioni ti ringrazia per la visione.